e noi ci partiamo con questo demo video dei quattro telefoni sotto i 299 euro da questa macro in cui sto fermissimo con il telefono mi sposto vediamo l'adattamento al fuoco se hanno tutto il fuoco continuo vediamo quanto si mettono ad adattarsi al fuoco e adesso facciamo il solito fan veloce con anche il contro luce eccolo qua ci manca la camminata e la facciamo subito per verificare la stabilizzazione nostro mitico amico postino e poi entreremo dentro nell'androne per verificare come riprendono praticamente al buio questi quattro telefoni non farò il giro su ascensore perché sennò diventa veramente un video lunghissimo ecco qua l'androne ok quindi avete visto come si comporta il buio e anche come si comporta con la stabilizzazione al buio e con questo direi che è tutto ah no mi sono dimenticato lo zoom aspettate riesco 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 corsa 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 grande ci sono quasi ok riappiamo il portone usciamo e prova di zoom che poco di fare un po stabilizzata e quindi mi fermo appoggio i telefoni da questa prospettiva la giunta abbiamo di dire molto bene Qua lo zoom dall'Honor, qua lo zoom dal Samsung, zoom dallo ZOOC e zoom da LG.